Cari amici affezionati del canale, sia occasionali che abituali, ben ritrovati per un nuovo contenuto video. Quanti di voi hanno avuto modo di prendere visione dello statuto della congregazione cristiana dei testimoni di Geova, statuto che è stato depositato, fu depositato nel 1986 a seguito dell'intesa con lo Stato da parte della società Torre di Guardia. Quando l'associazione fu costituita, l'ente giuridico fu costituito in maniera ufficiale, per legge hanno dovuto depositare uno statuto e quindi una serie di regolamenti voluti dalla Costituzione italiana che regolamentano il rapporto tra gli associati e l'associazione. Ecco, vediamo i punti salienti di questo statuto, vediamoli insieme. Che io ricordi ogni congregazione comunque dalle parti della biblioteca dovrebbe essere custodita, copia di questo statuto. Ogni congregazione ne possiede una o dovrebbe possederla in ogni caso perché i soci aderenti, gli aderenti, gli associati, i singoli testimoni di Geova insomma, dovrebbero sapere, oltre a saperne dell'esistenza, ma a conoscerne anche il contenuto perché da questo dipende, da questo dipenderà il loro rapporto con l'associazione e con gli anziani della congregazione. Ripeto, questo statuto è voluto dalla nostra Costituzione italiana ed è nello specifico valido per la nazione Italia. Ogni stato potrebbe volere, ogni governo, a ogni Costituzione potrebbe volere uno statuto simile o diverso a secondo delle leggi locali, insomma. Quindi questo per lo specifico, nello specifico, nel dettaglio, è valido per i testimoni di Geova italiani e per come dovranno rapportarsi, quali sono i loro obblighi, i diritti e doveri, insomma, nei confronti dell'associazione. Dunque, come vediamo all'inizio, articolo 1, è costituita la congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Essa è l'ente centrale, attenzione all'impostazione, essa è l'ente centrale in Italia della confessione religiosa aderente all'organizzazione mondiale dei testimoni di Geova rappresentata dalla Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania negli USA. è chiaro questo giro di riferimenti? È come per dire che la Watchtower Bible and Tract Society della Pennsylvania rappresenta, rappresenta quindi i testimoni di Geova, l'organizzazione mondiale dei testimoni di Geova. Ma non sono la stessa cosa. In ogni caso, alla sede principale a Roma, ancora è ancora lì, ovviamente non si è ancora trasferita, e può aprire sedi secondarie nel territorio italiano e anche all'estero. In effetti si stanno organizzando di aprire, a quanto ricordi, una sede, anche una succursale o un'altra sede in Italia. Comunque, a prescindere. La congregazione è un ente, è un ente di religione, è di culto. Quindi è un culto, è un ente religioso, di istruzione, vedete qui ci sono le finalità di questa associazione, di istruzione, assistenza e beneficenza. È previsto quindi che questa associazione faccia beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto. Quindi la beneficenza che loro sono tenuti a fare, la beneficenza che è prevista da farsi, comunque è finalizzata, quindi con essenziale fine di religione e di culto. Quindi non è che si mettono a fare beneficenza di qualcosa che non abbia a che fare con la religione e con il culto. È praticamente già previsto e indicato qui, nello statuto, nella fase iniziale. Potremmo approfondire e leggere ancora altri dettagli che riguarda appunto lo statuto. Personalmente trovo rilevanti quelli al punto 3. Infatti ho evidenziato, no? La congregazione in quanto ente centrale in Italia della confessione dei testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia, un po' come tutte le religioni. Vedete cosa vuol dire ispirarsi? Essere ispirati? Quando dite che invece, quando dicono e quando dite che la Bibbia è ispirata da Dio, invece il termine ispirare significa tutt'altro. Difatti in questo caso è la congregazione dei testimoni di Geova che si ispira alla Sacra Bibbia. Quindi a qualcosa ci si può essere, ci si può ispirare piuttosto che essere ispirati. E comunque non vuol dire ricevere un dettato, perché qui, come vedete, la congregazione si ispira alla Bibbia ma non riceve un dettato dalla Bibbia. Quando concepisce pensieri, concepisce regole o regolamenti interni, quello che vogliamo, interpretazioni, lo fa ispirandosi alla Bibbia, perché questo è il senso del termine ispirare. Comunque, ripeto, l'articolo 3 viene detto e specificato che loro si ispirano alla Bibbia. Fatta questa parentesi, andiamo avanti, ed opera affinché essa, cioè la Bibbia, sia diffusa, letta e messa in pratica, secondo come ovviamente concepita da loro. Poi promuove, realizza ogni opportuna attività diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare, i suoi compiti sono i compiti di questa congregazione, di questa associazione. Predicare il Vangelo al punto A, migliorare mentalmente e moralmente uomini che aderiscono a questa associazione, punto B, e così coloro che aderiscono a questa associazione migliorano mentalmente e moralmente. Ma a sentire quello che accade, sta accadendo, sta venendo a galla in questi ultimi anni circa i casi di pedofilia in tutto il mondo, e il fatto che vengono arrestati ormai in blocco, come l'ultimo caso citato dove sono stati in una congregazione addirittura arrestati in cinque per sfruttamento sessuale, pedofilia eccetera eccetera, boh, non so, questo punto forse è da rivedere. Comunque, andiamo avanti, siamo qui per questo punto. Punto C, pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli riviste e altri stampati a carattere religioso, culturale, al fine di diffondere il messaggio biblico. Messaggio biblico estrapolato e concepito ovviamente sempre da chi? Dalla congregazione cristiana dei testimoni di Geova, per come loro lo concepiscono questo benedetto messaggio. Ma andiamo avanti. Voglio semplicemente arrivare a questo punto. Dunque salto la seconda pagina dove ancora approfondisce l'articolo 3 e tutto l'elenco delle varie finalità di questa congregazione, di questa associazione, e arrivo al punto 4. E questo è il nocciolo di questo video, il punto 4, dove viene spiegato nel punto 4 chi sono i soci effettivi e i soci aderenti. Insomma, e chi sarebbero poi sti soci in sostanza? Eh sì, abbiamo detto, questa è un'associazione. Associazione fatta di soci, lo dice la parola stessa. Un insieme di soci formano un'associazione. A voglia che loro si chiamano tra di loro fratelli, fratelli, sorella, sorella, fratello, fratello, sorella, in realtà sono giuridicamente parlando dei soci che fanno parte di questa associazione. Ok? Tutti insieme formano un'associazione, un insieme di soci. Sono soci effettivi però, perché qui non sono soci tutti uguali. Vedete, ci sono gli effettivi e gli aderenti. Chi sono gli effettivi? I soci effettivi della congregazione dei testimoni di Geova, con la qualifica di anziani. Però, attenzione, non tutti gli anziani. A quanto pare, qui io voglio dire, insieme a voi voglio capire chi sarebbero questi anziani, che in effetti sarebbero soci effettivi. Anziani che sostengono a tempo pieno l'opera di predicazione della buona notizia del regno. Che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione. Quindi probabilmente, mi viene da capire, conoscendo dall'interno questa associazione, non tutti gli anziani, ma solo tipo i sorveglianti. Quelli che loro chiamano sorveglianti, che sono comunque anziani, ma sono anziani viaggianti. O forse anche gli anziani pionieri. Non lo so. In ogni caso, mi sembra di capire che non tutti gli anziani hanno il titolo di socio effettivo. Ma in cosa si distingue il socio effettivo dall'altro tipo di socio? Adesso lo vedremo più avanti, perché poi ci sono i soci aderenti. I soci aderenti sono tutti gli altri testimoni di Geova battezzati. Quindi un testimone di Geova battezzato è, dicasi, socio aderente, ok? Associati alle congregazioni locali, che sono attivamente impegnati, attenzione, il socio aderente è non solo battezzato, ma attivamente impegnato nella diffusione del messaggio biblico, quindi che frequenta le riunioni di culto, quindi che frequenta le adunanze e che applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta. Quindi ci sono, vedete, più punti che contraddistinguono e che rendono il socio, il socio aderente, che lo rende tale, che gli conferisce questo titolo. Infatti, vedete, poi va avanti, dice, soltanto i soci effettivi però, quindi i soci effettivi sarebbero quegli anziani viaggianti, quegli anziani disponibili ad accettare assegnazioni, credo che siano i sorveglianti e i pionieri, vengono chiamati così nello specifico. Comunque, solo questi hanno il diritto di voto e sono elegibili alle cariche sociali, cioè i soci effettivi. I soci aderenti, invece, come vedete, la qualifica di socio è personale, i relativi poteri non possono essere trasmessi ai redi o legatari, a tutti i soci, quindi sia effettivi che aderenti, spetta di frequentare le riunioni, vedete, frequentare le riunioni, quindi frequentare le adunanze di culto, presso le congregazioni locali a cui sono assegnati, partecipare alla vita e all'attività di tutte le comunità, per cui predicazione, porta a porta, per le piazze in giro, le assemblee, e ricevere tramite S assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica. Vedete cosa devono, in cambio, ricevere questa assistenza spirituale e morale. Addestramento, in che cosa consiste questo addestramento? E istruzione biblica. Sapete cos'è questo addestramento? Eh, essere addestrati a impappocchiare porta a porta, a impappocchiare, a utilizzare abilmente, decontestualizzare i versi della Bibbia, insomma, utilizzare retorica, linguaggio, termini, frasi, domande, quant'altro, ogni strategia per fare proseliti. Questo è l'addestramento che ricevono, appunto, per svolgere questa attività, questa loro attività che li contraddistingue e che li rende soci effettivi, che gli dà loro questa qualifica, questo titolo. Ok? È chiaro? All'articolo 5 poi viene specificato che questi soci effettivi, cioè questi sorveglianti, questi pionieri, la nomina di questi soggetti, di questi soci effettivi, è deliberata, quindi è deliberata dall'Assemblea, su proposta del corpo direttivo, del comitato direttivo. Credo che il comitato direttivo sia un organo presente presso la filiale, presso le filiali. Perché? Perché, come vedete, mentre l'ammissione dei soci aderenti, è deliberata dal corpo degli anziani delle congregazioni locali. Ok? Quindi c'è questa distinzione tra... gli anziani locali non hanno il potere di nominare, ovviamente, un sorvegliante, un pioniere, eccetera, eccetera. Ovviamente, no? Un pioniere, un anziano viaggiante. Questi benedetti soci effettivi vengono nominati soltanto attraverso il corpo, il comitato direttivo che si trova presso la filiale. In questo caso abbiamo visto che la filiale si trova, quella italiana, si trova a Roma, in via della Bufalotta 1281. La qualifica di socio però si può perdere, vedete? Eh, questa è una parte interessante. Ora arriviamo proprio nel fulcro di questo video, diciamo così. La qualifica di socio, e abbiamo visto che ci sono due tipi di soci, effettivi e aderenti, si può perdere. Eh? Come? Tre punti. A, B e C. A per dimissioni, B per decadenza, C per espulsione. Ora, i stessi congevoli sono solito dire, non usano i termini dimissione, ma usano i termini dissociazione. Si è dissociato. In realtà sono le dimissioni. L'espulsione sarebbe la cosiddetta disassociazione. È stato dissociato il tal fratello, è stato dissociato, la tal sorella è stata dissociata, è dissociazione, niente, è espulsione. Poi, no? Benedetto. Si possiamo utilizzare termini più facilmente intuibili. È espulso. Sì, sì, è stato espulso. Ora, comunque, qui, punto per punto, io con la penna ho scritto A, B e C. Dove? Appunto, per dimissioni. Cosa vuol dire per dimissioni? Come si esplicano le dimissioni? Come ci si dissocia? Ecco, le dimissioni, dice qui, attenzione, c'è chi mi chiede, a chi devo scrivere per le dimissioni? A chi devo mandare la lettera per le dimissioni? È scritto qui, nello statuto. E le cose vanno fatte secondo il regolamento, lo statuto. Le dimissioni, quindi, o la dissociazione, come vi piace, dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo. Qui parliamo dei soci effettivi, ma i soci aderenti, cioè tutti gli altri fratelli, mentre i soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle congregazioni locali. Stop! Quindi, chi si vuole dimettere, chi si vuole dissociare, le dimissioni vanno inviate al corpo degli anziani. Si mette sulla busta, o l'intestazione della lettera, al corpo degli anziani, quindi non a un anziano specifico, ma all'intero corpo degli anziani, e quindi l'indirizzo della congregazione locale di propria appartenenza. Punto. Ecco, questa è la modalità, e basta, non c'è scritto che bisogna mandarlo anche alla filiale, poi uno vuole mandare, per carità. Non succede nulla, ma non è obbligatorio inviare anche la lettera di dimissione alla filiale. Ok? Punto B. I soci, la decadenza. Ecco, vediamo la decadenza, come avviene. I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste per le rispettive categorie, ai commi 1 e 2. Infatti, i commi 1 e 2 li abbiamo visti prima. I commi 1 e 2 sono quelli che abbiamo visto prima, dove appunto veniva detto, dove veniva specificato come ciascun socio, sia effettivo che aderente, manteneva il proprio titolo, e quali erano i propri obblighi nei confronti dell'associazione, i propri doveri, le cose da fare, insomma, quindi la partecipazione, la presenza, la frequenza ha le adunanze, quindi bisogna frequentare assolutamente le adunanze, perché fa parte dell'obbligo del socio, e solo così facendo mantiene il socio, mantiene il suo titolo. Se smette di frequentare le adunanze, se le smette di frequentare per un certo periodo, e se smette per un certo periodo di associarsi all'associazione, questo titolo decade, l'avete visto? E sì, cari amici, questa è la decadenza, la perdita del titolo, la caduta del titolo. Quindi, cos'è sto titolo? Ovviamente il titolo di Testimono di Geova, che uno che socio è, socio del club dell'Inter, del club della Juve, no, qui stiamo parlando, si si è soci della congregazione dei Testimoni di Geova, quindi si smette di essere soci, si perde il titolo, decade questo titolo, se per un certo periodo uno smette di praticare, esattamente di praticare tutto ciò che è previsto nello statuto, e l'abbiamo visto prima, se non vi è chiaro, riascoltate il video, rivedete il video, e passate, riascoltate i passaggi appunto precedenti, ok? Lo dice chiaramente, i soci effettivi e aderenti cessano per decadenza, quindi la decadenza, un qualcosa che i Testimoni di Geova di solito non sanno, i Testimoni di Geova sanno che si può essere soltanto espulsi, cioè disassociati, e si può essere, e ci si può dissociare, questo sanno i Testimoni di Geova. I Testimoni di Geova non sanno che però esiste il punto B, che si smette di essere tali, che si smette di essere Testimoni di Geova semplicemente smettendo di praticare, di frequentare sia i soci che l'associazione. C'è uno che si ritira per i fatti suoi, perde l'interesse, non pratica più. Ovviamente se voi leggete poi la Costituzione italiana, prevede che il tempo che qualifica un soggetto come inattivo è sei mesi, cioè uno, sei per sei mesi, sei per sei mesi, non produce più un rapporto di, loro lo chiamano rapporto di servizio, e quindi se uno per sei mesi non fa più un rapportino, che a questo serve il rapportino, il rapportino dove vengono indicate le statistiche di attività, quindi le ore dedicate, eccetera eccetera. Quel rapportino, quel cosiddetto rapportino serve a dimostrare che il socio è attivo, che il socio è attivo per cui viene conteggiato all'interno dell'associazione e mantiene il suo titolo attraverso quel rapportino. Se a un certo punto il socio non consegna più quel rapportino, quindi non sta più partecipando alle attività dell'associazione, previste dell'associazione, e per sei mesi continuativi questo rapportino, benedetto rapportino, non è più presente nell'archivio? Eh, cosa dovrebbe accadere? Vediamo. E come dice l'ultimo paragrafo dell'articolo 5, la decadenza e l'espulsione, a noi interessa in questo caso la decadenza, dei soci effettivi sono deliberati dall'assemblea sul proposto del comitato direttivo e non ci interessa, perché i soci effettivi sono, abbiamo detto, anziani viaggianti. Invece la decadenza e l'espulsione dei soci aderenti, che sarebbero tutti gli altri fratelli, no? Sono deliberati dall'assemblea, sì dall'assemblea, ma su proposta del corpo degli anziani, delle congregazioni locali. Cosa significa? Eh certo, il comitato direttivo, insomma, chi sta alla filiale, che ne sa se un tizio non sta più frequentando, non sta più frequentando né l'associazione e non sta partecipando più alla propaganda porta a porta? Che ne sanno? Al comitato direttivo, alla filiale, che ne sanno? Non ne sanno nulla. È obbligo degli anziani locali che dopo sei mesi, dopo sei mesi uno diventa inattivo ufficialmente, no? Quindi la posizione di inattivo si raggiunge dopo almeno minimo sei mesi di inattività e quindi si diventa ufficialmente inattivo, abbiamo detto. Ma a un certo punto, dopo un anno, voglio dire, faccio un esempio, gli anziani locali delle congregazioni, passati questi sei mesi, passati questi sei mesi, andati oltre, con lo scadere magari dell'anno di servizio, e allora scade ad agosto, ogni anno ad agosto scade l'anno commerciale dell'associazione, loro lo chiamano anno teocratico. Di regola come dovrebbero comportarsi gli anziani locali ad agosto, alla fine di quest'anno? Diciamo teocratico, ecco, ma è anno commerciale. Dovrebbero vedere un po' questi, dare un'occhiata a eventuali inattivi, attivi ormai che hanno superato i sei mesi, e dovrebbero dire, beh, questo è inattivo perché è inattivo, forse non è più interessato, magari potrebbero dare un colpo di telefono, sentire, chiamare il tal dettaglio e sentire se la sua inattività è dovuta da impedimenti o cause maggiori, ma magari il suo interesse è, c'è ancora interesse da parte del soggetto a voler rimanere nell'associazione, no? E in questo caso loro dovrebbero prestarsi a fornire aiuto per recuperare il soggetto inattivo. Ma se invece si riscontra che l'inattivo è semplicemente inattivo perché non più interessato all'associazione e all'attività delle associazioni, beh, gli anziani avrebbero, dico avrebbero condizionale, il dovere di comunicare l'inattività del soggetto affinché il comitato direttivo, chi sta in filiale, possa ratificare il titolo decaduto, la decadenza, la decadenza e quindi da quel momento in poi non considerare più il soggetto parte dell'associazione, parte dell'associazione. Nelle altre associazioni in Italia in genere è così che avviene, perché un soggetto non è obbligato a far parte di un'associazione per tutta la vita, non esiste, non è previsto in Italia una roba, un obbligo, una carcerazione del genere, non è prevista, non si può fare. Il soggetto può essere libero di disinteressarsi e non praticando più, semplicemente non praticando più, non deve necessariamente compiere qualche atto che lo squalifichi, perché vedete al punto C si dice come uno può essere espulso, al punto C dice che i soci aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto oppure per comportamento contrario agli insegnamenti di come loro intendono le Sacre Scritture in campo morale e comunque dice qua, vedete lo indica, che si viene sicuramente espulsi se nel compiere un comportamento, una trasgressione insomma, se nel compiere una trasgressione il soggetto danneggia la reputazione, io aggiungo la reputazione, la confessione e i suoi membri. Cosa significa danneggiare la confessione ai suoi membri? Se insomma ciò che è stato combinato, la trasgressione commessa dal socio aderente, se è di dominio pubblico, se tutti sanno che questo testimo di Geova e che ne so ha commesso sto grave reato ed è di dominio pubblico, e allora quindi quasi sicuramente, anzi togliamo il quasi, si viene espulsi. Si viene anche espulsi se questa trasgressione causa grave turbamento fra i membri stessi, vedete è garantita l'espulsione, perché se non c'è danneggiamento a livello di immagine, se non c'è grave turbamento fra i membri della congregazione, una trasgressione potrebbe, se è occultata bene, potrebbe non essere motivo di espulsione. E lo dice qui, lo specifica, lo statuto, non c'è da meravigliarsi, è tutto specificato, ok? Dunque, per essere, ritrovarsi fuori uno, uno, per non essere più testimonici, per liberarsi, per liberarsi da questa associazione, uno, che deve fare? È sufficiente essere inattivi, minimo per sei mesi, quindi bisogna andare oltre i sei mesi di inattività, affinché gli anziani benedetti della congregazione facciano a loro volta il loro dovere, dovrebbero fare il loro dovere, ma non lo fanno mai, bisogna in qualche modo farsi sentire e pretendere dagli anziani locali, cioè a un certo punto può essere necessario, in quanto inattivi, pretendere che gli anziani comunichino al comitato direttivo, alla filiale, l'inattività del soggetto, affinché il comitato di filiale, il comitato direttivo, scusate, ratifichi definitivamente, ufficialmente, il titolo decaduto. Perché? La persona inattiva è ufficiosamente fuori, ufficiosamente fuori dai testimoni di Geova, ufficiosamente un inattivo conclamato, insomma, disinteressato, e non è più il testimoni di Geova, ma ufficiosamente, bisogna rendere ufficiale questo titolo decaduto e a questo scopo la responsabilità, il dovere, il compito, l'obbligo di liberare il soggetto dalla palla al piede di questa associazione, l'obbligo ce l'hanno gli anziani locali. Quindi, cos'è che accade in realtà poi? Accade che questi anziani dormono, fanno finta di non sapere nulla a tal proposito, non si muovono, tentano in pratica di lasciare legato il cordone ombelicale a questo soggetto cosiddetto rolinattivo, addirittura per anni, anni. Perché? Perché per anni? Perché, se possono, se possono, tentano, da lì a un tempo indefinito, tentano sempre di riacchiappare o di tornare a sottomettere il soggetto alle attenzioni degli anziani e comunque dell'associazione. E così, in qualche modo, da recuperarlo, da sottometterlo, recuperarlo e farlo rientrare in qualche modo. Ecco. Quindi loro, per un interesse, per motivi personali, per interessi egoistici dell'associazione, evitano di applicare il punto B, la decadenza. Anzi, non vogliono neanche che i soci sappiano che esiste questo modo, che in questo modo si può uscire senza essersi associati. Si può uscire senza che uno si dimetta, senza che uno faccia dimissioni. È un proprio diritto. Il socio ha il diritto di non essere più considerato aderente, non prevede la Costituzione italiana, a seguito di inattività, quindi di perdita di interesse. Perché uno deve farsi disassociare? Perché uno deve commettere una grave inadempienza dagli obblighi derivati dal presente statuto? O perché uno deve avere necessariamente un comportamento contrario per non essere considerato più testimone di Geova? Ma che stiamo scherzando? E sì, perché loro preferirebbero, preferiscono che il soggetto arrivi a questo, così da meritare l'espulsione, così d'oro, poi devono poter dire, ah, noi l'abbiamo espulso. Perché? Perché quell'espulsione poi comporta l'ostracismo. Quell'espulsione comporta l'ostracismo. A seguito di quell'espulsione ci sarà, magari, che ne so, anche un annuncio, la messa al bando, il soggetto espulso viene annunciato all'intera congregazione e l'intera congregazione avrà modo di ostracizzare, stigmatizzare, discriminare il soggetto che semplicemente però era inattivo, aveva perso questo titolo, il titolo era decaduto. Non si può neanche più, per legge, il soggetto inattivo non neanche può essere sottoposto a un comitato giudiziario. Il soggetto inattivo, non essendo già più testimo di Geova, avendo già perso ufficiosamente il titolo, non può essere oggetto di un comitato giudiziario. E se il soggetto ha provveduto a, attenzione, questo è un punto importante, se il soggetto ha provveduto a ritrarre le proprie, come si dice, avete presente l'aver concesso agli anziani l'utilizzo dei dati personali? Se il soggetto precedentemente aveva firmato e aveva dato il consenso al trattamento dei propri dati, quindi dare il consenso al trattamento dei dati vuol dire che si può anche annunciare, quando uno viene espulso, quando uno non è più un testimo di Geova, si può annunciare alla congregazione il fatto che il soggetto non è più un testimo di Geova, perché uno ha firmato, perché avendo firmato il consenso al trattamento dei dati vuol dire che il vostro nominativo può essere utilizzato anche in pubblico e pubblicamente si può comunicare alla congregazione, al resto della congregazione, così in modo tale che gli altri aderenti sappiano che il soggetto non è più testimone di Geova. E qui non vi è una trasgressione se questo avviene, perché voi avete dato il consenso al trattamento dei vostri dati. Se invece revocate, se invece revocate questo consenso che magari precedentemente avete dato ed è un vostro diritto revocarlo, se voi revocate l'uso dei vostri dati, l'annuncio non può essere fatto e se viene fatto questo diventa una grave violazione della privacy e potete denunciare gli anziani, il corpo degli anziani di quella congregazione dove l'annuncio viene fatto per violazione della privacy. Avrete diritto a un'indennità in termini economici. La denuncia va fatta al corpo degli anziani, non alla filiale, non al comitato direttivo, perché ad aver violato questa vostra privacy sono stati i locali anziani della congregazione a cui voi facevate riferimento. E per fare una denuncia di questo tipo servono anche testimoni, sarebbero dati ben precisi, a che ora è avvenuto l'annuncio, la data dell'annuncio e magari anche il nome e cognome nello specifico dell'anziano che ha fatto quell'annuncio, del soggetto che si è prestato sul palco da fare l'annuncio per conto del comitato del corpo degli anziani, perché la denuncia di questa violazione non va rivolta al soggetto che ha fatto l'annuncio, ma al corpo degli anziani che ha deliberato che questo annuncio venisse fatto. È chiaro? Ma per denunciare quel corpo degli anziani, ecco, magari servirebbe anche, non guasterebbe anche se qualcuno fosse disposto anche a testimoniare, a dire sì, purtroppo io ero presente, ho avuto modo di sentire l'annuncio, l'annuncio è stato fatto. Quindi una qualunque persona che può testimoniare per questo annuncio. Insomma la questione è questa, che sapete bene, avete capito bene, che questa associazione ha tutti gli interessi che non si sappia del fatto che un inattivo conclamato ormai ufficiosamente ha perso il titolo, il suo titolo, il titolo e il titolo qual è? Cos'è il titolo? Abbiamo detto, il titolo è essere testimone di Geova, perché io ho mio nome e cognome, mio nome e cognome riguardano la mia identità, però poi potrei avere vari titoli e in questo caso si parla del titolo del socioaderente, che è quello di testimone di Geova, che viene perso. Viene perso anche per decadenza e non solo per disassociazione o espulsione. No, 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 no. Ecco, questo video potrebbe essere utile a chi vorrebbe far valere questo proprio diritto, questa propria condizione, per cui chiedo di condividere questo contenuto, di farlo arrivare a chi a chi sta vivendo una situazione di questo tipo. Ovviamente queste leggi, questi regolamenti sono validi per ogni associazione, non soltanto per quella dei testimoni di Geova. Grazie per l'attenzione.